Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TB Sport. È la notte di Antonio Conte che questa sera tornerà a sedersi in panchina a Bari per la sfida tra l'Italia e l'Olanda. Sarà l'occasione anche per rivedere due altri giocatori del Bari. La coppia difensiva formata da Bonucci e Ranocchia, però ci avvicineremo anche ad un'altra gara importante, quella di domenica sera tra Bari e Perugia. Di questo e di altro ne parleremo con voi allo 085019998 e con il mio ospite di oggi, l'avvocato Pino Monaco. Bentornato Pino. Ciao Cristian, ciao a tutti. E allora Pino, possiamo davvero dire che questa è la notte di Antonio Conte. Emozioni particolari, Conte che è proprio partito da Bari, la sua carriera è iniziata proprio qui a Bari, e la carriera da vincente che l'ha portato qui sulla panchina della Nazionale Italiana. Sì, forte emozione per lui, penso, forte emozione anche per i baresi, per i tifosi baresi. Cioè, pensare che solo qualche anno fa avevamo sulla panchina del Bari quello che oggi è l'allenatore della Nazionale, è una cosa che mette i brividi, insomma. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Assolutamente, poi, occhio che ci sarà anche poi questa coppia centrale, la ricorderei con piacere, Bonuccia e Ranocchia, quel Bari di Ventura che strabligliò nell'anno della Serie A, quindi ancora, un magone ancora maggiore, no Pino? Il Bari della Libidine. Il cosiddetto Bari della Libidine, tralasciando l'altro anno però. Sì, poi Ventura, ho visto che usa le stesse espressioni ora col Torino. Sì, sì, è identico, è un copione praticamente già scritto. Vabbè, diciamo che fa parte del gioco, però ecco, cioè, rientra tra le pagine belle del calcio barese, insomma, il Bari di Catuzzi, il Bari di Ventura, il Bari di Conte, sono quelle squadre che non solo hanno vinto, ma che ci hanno fatto divertire, insomma, che è la cosa più bella, insomma, da ricordare. Eh sì, infatti, 085019998 il numero per intervenire in diretto, un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Sì, ti sentiamo, vai. Sì, buongiorno, sono in guccia da Bari. Ciao. Senti, volevo sapere una cosa, siccome che quello che si è saputo è che Salomone fa più la radio cronica della questione della partita, ma insiste, c'è la radio cronica della partita del Bari o meno? Sì, sì, ma ci sono assolutamente, comunque Salomone ha tranquillamente ripreso a fare le sue radio croniche per la sua emittente radiofonica, tranquillo. Quindi ci sono, ci sono, hanno già iniziato la partita contro Lentella, quindi non c'è problema. Grazie comunque per il tuo intervento, Pino ti devo chiedere però anche un ricordo del tuo Antonio Conte qui a Bari. Guarda, la cosa che mi ha sempre impressionato di Conte è la professionalità portata all'eccesso. Ecco perché quando indirettamente mi occupai, quando lui fu coinvolto marginalmente nella questione delle partite svendute, non riuscivo a crederci, perché non ci dimentichiamo che Conte con una squadra ormai già compromessa andò a vincere a Lecce. Nella sua Lecce, è vero, è vero. Era una partita che per il Lecce era fondamentale e che tra l'altro gli costò un mezzo pestaggio in spiaggia, ricordo, da parte di alcuni pazzi scatenati del Lecce. Questa è la dimostrazione veramente della serietà dell'uomo, oltre che del professionista, che gioca sempre per vincere. Magari ha un carattere un po' antipatico, un po' particolare. Ti dirò, non mi sono manco piaciute tanto le dichiarazioni di alcuni giocatori della Juventus dopo che lui è andato via. E hanno fatto capire che probabilmente esagerava in alcuni suoi atteggiamenti. Invece io ritengo che quella sia proprio la sua forza, cioè mantenere comunque il distacco dei ruoli tra allenatore e giocatore. E ripeto, soprattutto questa professionalità maniacale, che però è il merito maggiore che lo ha portato in una carriera giovane e veloce, ad essere sicuramente il miglior allenatore in Italia. Sì, sì, in Italia è sicuro, però è davvero uno dei più preparati a livello mondiale. Lo stanno riconoscendo tutti, anche i suoi colleghi, insomma. Ma poi i risultati parlano per lui. Ecco appunto, e questo della Nazionale è un test secondo me fondamentale per lui perché una cosa è l'allenatore e una cosa è il selezionatore. Io non so onestamente con le metodologie di allenamento di Conte quanto possano aver presa sui giocatori che tu comunque segui saltuariamente. Sì, è vero, è vero, comunque non li vivi quotidianamente. Sono giocatori abituati, tra l'altro, ognuno viene da strategie diverse, da squadre diverse, quindi qui è un ulteriore test che se dovesse superarlo veramente farebbe di lui uno dei più grandi allenatori. Non a caso si punterà inizialmente soprattutto sul blocco Juventus e anche sulla traccia tattica della sua Juve, cioè il 3-5-2. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, Cristian. Sì, ciao. Sono Nicola. Ciao Nicola. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E domenica il Bari vince 3-1. Speriamo, speriamo, ce l'auguriamo. Speriamo, speriamo, ce l'auguriamo. Grazie, grazie comunque per il tuo intervento. E allora tra pochissimo parliamo di Bari perché Pino, domenica c'è davvero una partita bella, interessante contro il Perugia. Subito un test particolarmente attendibile per la formazione di Davis Mangia. Andiamo però a sentire proprio le parole di ieri pronunciate in conferenza stampa dal commissario tecnico del nazionale Antonio Conte. A nessuno piace perdere, anche se in alcune occasioni la sconfitta poi ha portato dopo 24 mesi l'Italia a vincere il mondiale. Mi riferisco a mister Lippi. No, cerchiamo di partire bene. E' un amichevole, è un amichevole contro una squadra forte che è arrivata terza al mondiale. Una squadra con valori consolidati. Però noi abbiamo voglia, abbiamo voglia di fare delle belle cose, abbiamo voglia di dimostrare, di voler fare delle cose per bene. Ecco, questo è molto importante. Quello che mi auguro è sicuramente di dormire qualche ora in più, perché di solito prima di impegni importanti mi fatico a dormire. È già capitato questa notte. Però quando dormo poco penso tanto, a volte maturo delle idee anche buone. Niente, per il mio esordio sicuramente ci sarà mia figlia e mia moglie. Mia figlia mi segue da quando aveva due mesi, ha fatto l'esordio per voi in questo stadio, quando allenavo il Bari. Ci sarà tutta la mia famiglia, quindi è un motivo in più per essere orgoglioso di essere qui. Il mio compito è quello di far crescere i giovani, assemblarli ai veterani. Ma quello che a me preme dire è che in questi tre giorni di ritiro ho visto sicuramente un atteggiamento molto, molto positivo. Molto positivo e molto propositivo da parte di tutti, da parte dei veterani, da parte dei giovani. C'è grande senso di responsabilità da parte di tutti. Sappiamo che è un momento difficile un po' per tutto il Paese. E vorremmo anche tramite la nazionale riuscire ad essere d'esempio, sapendo che in campo andiamo noi 22, ma sapendo che dietro c'è un intero Paese che ci guarda. E allora queste le parole di Antonio Conte, dobbiamo fare anche un po' di ping pong tra nazionale e Bari. Pino, per intanto prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, ti sentiamo, vai. Sì, buonasera. Senta, io volevo fare una riflessione con voi circa quel famoso progetto che l'assessore Elio Sanicanda avrebbe voluto realizzare per lo stadio San Nicola. Si immagini che danno avrebbe fatto a questa città. Questo sta a dimostrare che a volte dobbiamo prendere con le pinze le decisioni di alcuni politici, perché lui solo per un fatto di bandiera voleva realizzare un progetto che sicuramente avrebbe portato molto, ma molti danni alla città di Bari. Va bene, grazie. Grazie per il tuo intervento. Io non so se avrebbe portato danni alla città di Bari, anzi, ristrutturare lo stadio San Nicola credo sia anche una delle priorità anche della nuova proprietà e di Gianluca Pavaresta per renderlo sempre più confortevole, anche più funzionale, poi anche alle nuove esigenze del calcio. Io sono parzialmente, nel senso che quel progetto non riguardava solo la ristrutturazione dello stadio, se ricordo bene. Sì, sì, anche magari le zone piacenti, sì, allo stesso. Era un megaprogetto e io mi auguro che il suo interesse, parlo dell'assessore, ex-assessore, fosse solo quella di immagine. Però, ecco, penso che il telespettatore si riferiva al fatto che, siccome all'epoca nessuno era interessato al Bari e quindi si cercava con un progetto più ampio di far sì che qualcuno si interessasse più al business attorno allo stadio più che allo stadio in sé. Se vogliare in quel senso poi qualcuno ad acquistare la squadra. Ecco, allora probabilmente lui si riferisce al fatto che oggi invece abbiamo comunque una proprietà e un presidente che non ha avuto bisogno, diciamo, del megaprogetto per acquistare il Bari. Comunque, ecco, la cosa importante è che oggi proprio leggevo che lo stesso Paparesta non solo stanno rimettendo in sesto quello che è indispensabile per avere le varie autorizzazioni a giocare. Sì, sì, certo, per la gestione più coordinare, certo. E in più ha un progetto, ho letto, per far sì che il secondo anello della curva possa avvicinarsi al campo, insomma, quindi d'intesa tra l'altro con Renzo Piano, perché tu come ben sai, quello è, lì ci sono i vincoli della sovintendenza, quindi ci sarebbe tutta una serie di difficoltà burocratiche. Però, ecco, è un'ulteriore conferma che il progetto di Paparesta, che ne dica qualcuno, non è una cosa fine a se stessa, ma è un progetto che guarda molto lontano. Tra poco ne parliamo nel dettaglio pubblicità.